video sui preferiti ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Cristina e oggi facciamo il video sui preferiti sempre se ci riusciamo perché qui da queste parti ho il cagnolino che si aggira e quando si aggira lui abbiamo finito di fare oggi parliamo di tre categorie di preferiti casa, make up e profumi quindi mettetevi comode perché ho un sacco di cose da dirvi e se chiedo a me questo video diventerà molto lungo allora io partirei dal make up che forse è quello che ho meno cose da farvi vedere anche se ne ho parecchie e qui vi voglio far vedere alcune cose che sono tra le mie preferite in assoluto che indosso anche oggi allora innanzitutto vi faccio vedere questo rossetto che fa parte della collezione Charming Escape quindi la collezione uscita a fine estate credo di Kiko ed è questo rossetto in questo pack bellissimo veramente questo fucsia non troppo non sparafresciato con questi particolari oro mi ricorda un po' il Giappone non so perché il colore che vi faccio vedere io è lo 02 ed è quello che indosso anche oggi non guardate comunque la parte centrale perché lì ho del gloss ma il colore è questo quindi è un nude proprio nude nude di quelli che sono perfetti per me per quanto riguarda diciamo la stagione invernale perché è questa la stagione diciamo che in cui sono più chiara questo qua è il colore quindi è un colore proprio nocciola direi che mi piace tantissimo profumatissimo e comunque tutto decorato come vedete mi piace tanto perché allora sapete che io ho una passione per i nude comunque in generale ho una passione per i rossetti se non vogliamo chiamarla malattia ma va bene questi tipi di nude così di questi colori né caldi né freddi quindi questi marroncini che stanno bene sia con dei trucchi aranciati marroni che con dei trucchi rosa freddi stanno bene con tutto a me piacciono sempre tanto sulle mie labbra si vedono soprattutto se contornati da una matita leggermente più scura non esageratamente un tono più scura perché non facciamo l'effetto anni 90 su di me stanno bene se lo dovessi portare d'estate probabilmente mi farebbe l'effetto morta annegata perché mi farebbe sparire le labbra soprattutto li amo come vedete indossato oggi mi avvicino un pochino così riuscite a vederlo meglio come indossato oggi come vedete con dal centro un pochino di gloss questo è l'effetto mamma mia quanto so brutta mamma mia quanto so brutta poi sempre della stessa collezione quindi Charming Escape ho comprato ho comprato perché adesso facendo del danno vero io questo blush che era il numero esattamente 4 mellow filled il colore che è questo qua i blush di quella collezione erano questi io vabbè quelle di tate di fondo tinta non mi preoccupo neanche di pulire non mi frega proprio niente ha lo specchietto qua che vi copro e questo qua è il colore un colore veramente bello perché è un colore leggermente rosato con una puntina di malva ma non esagerata come vedete non c'è un'esagerazione comunque di viola dall'interno è leggermente shimmer quindi non è opaco qua non si vede praticamente lo shimmer ma c'è lo vedete e mi piace veramente tanto perché dà quell'effetto pelle tipo sana colorito sano alla pelle che secondo me è bellissimo sono quei blush piuttosto naturali comunque bisogna andare un po' con la mano leggera perché è molto scrivente per cui si rischia veramente di esagerare di sembrare Heidi però comunque dato quella mano leggera dà questo effetto come vedete proprio pelle sana mi piace tanto e infatti sto usando praticamente solo lui appunto sta nei preferiti ragazze Nabla come faccio io a non nominarvi le solite cose ma un'amica mi ha fatto un regalo e mi ha regalato la seconda palette di Nabla quella di glitter che io vi ho già nominato in 500.000 modi l'avete comprata in tantissime ma vi compratevi anche questa fidatevi di zia Cristina questa è la Ruby Lights Glitter Palette quindi questa come vedete ha dei colori più più intensi cioè diversi comunque là c'è un bianco c'è un rosato chiaro c'è un azzurro chiaro qui invece troviamo dei colori decisamente più autunnali anche c'è questo rosato leggermente malva questo color rame questo diciamo rosso mattone e quell'oro ma questi Nabla sono i glitter migliori che abbia mai provato allora io di make up ne compro non esageratamente ma ne compro di glitter ne ho provati tantissimi proprio perché mi piacciono ma come questi non ce n'è nemmeno uno cioè io adesso ve li swatcho perché voi li dovete vedere dovete vedere questi glitter assolutamente vi prego ho appena appena appoggiato il dito appena appena appoggiato il dito veramente cioè non è che io abbia sono glitter che hanno già al suo interno tipo della colla quindi non hanno non ha bisogno di di colla per attaccare cioè guardate che meraviglia cioè questi glitter si vedono pure poco e mi dispiace però veramente cioè questi glitter li attaccate guardate qua li mettete e li restano sognatevi che questi se ne vadano in giro per il volto ovviamente se li usate è considerabile prima fare gli occhi e poi fare la base ma lì sono e li restano cioè a me capitava con altri glitter perché a me i glitter piacciono magari non ho neanche più l'età per portarli ma mi importa se mi importa niente e li porto lo stesso sono veramente li restano e li ritrovate cioè a me capitava prima di arrivare a casa e di sembrare una palla di quelle sapete quelle che andavano nelle discoteche anni 70 perché ero tutta glitterata questi li sono e li lasciate veramente io ora ve li ho sbocciati pure male ma hanno dei colori che sono bellissimi chi ha comprato l'altra sappia che questa ha la stessa qualità solo con dei colori più intensi e più autunnali quindi secondo me è imperdibile anche lei questa amica insieme a questo bellissimo regalo mi aveva regalato sempre di Nabla il Shine Theory Lip Gloss quindi è un lip gloss questo è nella colorazione Toxic Love dei gloss meravigliosi io non ho su quello in questo momento però io vorrei che voi guardaste guardate qua di fianco che qua c'era qualcos'altro ecco c'è quanto sono luminosi hanno dei micro 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 glitter all'interno che se io l'ho indossato scusate questi rumori sono i cani che corrono di qua e di là come dei pazzi l'ho indossato al sole l'effetto era meraviglioso mi sono comprata anche un altro io talmente mi piacevano che ne ho preso un altro cioè Champagne Supernova è il colore che è questo qua leggermente più aranciato come vedete anche lui splendido splendido questo è più rosato e colora un pochino di più le labbra questo è un po' più naturale ed è quello che ho su al centro delle labbra in questo momento eccolo qua durano tantissimo sono favolosi che sono i gloss migliori che abbia mai provato tant'è che appunto sono diventati i miei preferiti poi passiamo ai profumi sono due e ho deciso di tirarvi fuori per non amborbarvi troppo ma dovevo vi ho parlato di questo profumo anche negli otto profumi da sciarpa quelli cosi quelli confortanti quelli che vi scaldano in questo periodo ed è Bengal Rouge di Papillon eccolo qua questo è il mio profumo preferito del momento lo sto centellinando perché è un profumo un po' costoso e comunque molto persistente ne basta pochissimo questo profumo è un profumo che contiene note di mirra miele fava tonca rosa turca vaniglia e sandalo è un profumo ambrato dolce si sente molto secondo me la nota di miele la nota della fava tonca questo è un profumo totalmente adatto alle sere d'inverno alle sere fredde ai momenti in cui si vuole qualcosa di molto confortante di molto proprio avvolgente questo è un profumo che non somiglia minimamente a Lucum ma come sensazione ricorda quella di Lucum il famosissimo profumo di Keiko Mechery che sapete che io amo tantissimo qui manca la mandorla qui non è una mandorla o una rosa caramellata mielata ma è un'ambra totalmente avvolta nel miele quindi è un profumo appiccicoso molto dolce ma non dolce nel senso alimentare proprio stretto del termine con una persistenza un sillage una proiezione infiniti la Papillon Artisan Parfumour è un brand che ha delle referenze una più bella dell'altra credetemi se avete qualche rivenditore nella zona comunque controllate e andate a sentire queste meraviglie perché comunque quello non costa niente andare ad annusare e potrete capire la meraviglia di cui parlo il secondo profumo che ho deciso di inserire in questa lista di profumi diciamo in questo elenco di preferiti ovviamente ne ho usati e ne ho di più di preferiti però questi sono i due che hanno vinto il secondo è Sorriso di Profumo Roma questo contiene note di cioccolato fondente vaniglia legni esotici e arancia amara questo è un profumo al cioccolato quindi è un profumo che sa di cioccolato il profumo al cioccolato più buono secondo me che ci sia in circolazione il più buono di tutti perché è un profumo che ricorda il cioccolato fondente ed è un profumo però adulto non è un profumo che sa di cioccolaterie no? che sa di fabbrica di cioccolato che sa di pasticceria no è un profumo che ricorda il cioccolato sa di cioccolato ma un cioccolato adulto un cioccolato portabile però è dolce questo è un profumo perfetto per le sere di festa per queste sere anche che sono passate che arriveranno cominciano questo turbinio di feste che ci avvolgerà totalmente questo è un profumo che a me scalda avvolge conforta proprio come un pezzetto di cioccolato veramente questo profumo mi dà quella sensazione proprio di conforto non so se vi è mai capitato di mangiare un po' di cioccolato dopo una giornata di M quelle giornate un po' difficili e provare un po' di conforto ecco questo profumo il cioccolato è come se ci desse quella sensazione di calma di tranquillità dolcezza calore e avvolgenza che servono proprio per dare conforto in queste serate ecco io lo sto usando tantissimo perché mi piace da morire il sorriso di profumo Roma è il miglior cioccolato che esista in circolazione persistenza eccelsa come tutti i profumi in Roma sproiezione sillage quasi maleducati per noi comunque sfacciati direi quindi insomma assolutamente consigliatissimo passiamo al reparto casa io vi ho detto tempo fa che avevo ricevuto da un'amica un pensiero profumato per quanto riguarda il bucato mi ha regalato una delle essenze che lei utilizza con più piacere che mi ha detto che ama condividere con le amiche quindi mi ha fatto questo enorme onore Diana ti ringrazio se dovessi guardare questo video di essere annoverata fra le sue amiche quindi ho scoperto questa linea assolutamente sorprendente sono i profumatori per bucato più persistenti che abbia mai sentito quindi quando questa ragazza questa amica mi ha regalato questo profumatore io sono andata a sbirciare sul sito e ho scoperto che fra questi profumatori l'essenza esisteva l'essenza Marsiglia ed è questa quella di cui vi parlo oggi io ho trovato la pace dei sensi ragazze perché allora non amo utilizzare il sentore di Marsiglia che qui è veramente potente cioè io l'annuncio da qui sta proprio di sapone di Marsiglia di quello buono di quello genuino veramente molto potente quindi ne basta molto poco questo è un boccione da 500 ml e costano intorno se non sbaglio ai 17 euro 15 euro se non mi sbaglio ma veramente valgono tutto il prezzo che costano perché ne basta veramente poco io adoro utilizzare l'essenza di Marsiglia quando lavo le lenzuola la biancheria comunque in generale la biancheria del letto la biancheria del bagno e della cucina ecco per me deve profumare di questo io adoro perché poi il letto profuma di sapone di Marsiglia io sono appassionata di questo odore questo odore che mi ricorda mia nonna mi ricorda le lenzuola che lei stendeva il sole nella sua casa di campagna io d'estate quando correvo a casa a piedi nudi ma veramente così era per andare a pranzo perché comunque mia nonna mi aveva chiamato come si usava una volta Cristina non come si fa adesso che si manda un messaggino no proprio urlando sull'uscio di casa io passavo proprio da questo cortile che era il suo dove c'erano queste lenzuola bianche che lei lavava comunque in lavatrice perché c'erano già le lavatrici ma che amava comunque per trattare con dei saponi di Marsiglia che aveva lei enormi ricordo che aveva delle saponette così grandi che le tagliava a pezzi per utilizzarle ho questi ricordi quindi io amo moltissimo utilizzare questi prodotti per la mia casa rimanendo in tema profumi io vi devo mostrare per forza questo profumatore a bastoncini in questo caso abbiamo quello alla profumazione colazione a taormina ma comunque ci sono tutte quante ci sono altre profumazioni comunque facenti parte della Narcisse Collection sapete che vi ho parlato tanto tanto dei profumi c'è anche quello di zuccarata che io ho già utilizzato sto utilizzando con un piacere infinito sia questo che a taormina nell'altra stanza perché sono i profumatori a bastoncini più persistenti che io abbia mai provato in vita mia ho visto recentemente un video di Erika la verde sirena che ha parlato di questi profumatori a bastoncini e li ha definiti anche lei comunque profumatori enormemente persistenti e violenti e Erika è un'appassionata di profumi quindi se non la seguite si chiama la verde sirena se volete iscrivervi al suo canale siete interessati anche ai profumi lei parla spesso di profumi anzi parla di profumi direi mi trovo d'accordo con lei perché sono veramente fantastici io sono stata due giorni al mare sapete che vado spesso con il camper quindi la casa è rimasta ferma quindi non ho cucinato nulla non ho fatto nulla quando sono rientrata di là in sala e cucina e sono 30 metri quadri c'era un profumo di aree di taormina incredibile se dovete fare un regalo farvi un regalo vi consiglio veramente col cuore sapete che quando io vi dico una cosa non ve la dico così tanto per ma ve la dico perché davvero meritano vi consiglio di provare questi profumotori a bastoncini perché sia per voi che per fare un regalo farete una figura fantastica sempre a tema casa ragazze e sempre a tema profumo vi devo mostrare per forza questo qui lo vedete chiuso perché io quando mia mamma ha sentito che esisteva questa cosa sono dovuta andare a comprarne anche a lei la combo che vi farò vedere ora allora questo ve l'ho preso semplicemente per farvi vedere di cosa parliamo parliamo di ambipur tree evolution quindi qua ed è quello praticamente che ci sono i tre profumi tutti e tre comunque sullo stesso tema ma che si alternano in modo tale da non abituare il naso e profumare molto questo è quello alla vaniglia che io ho preso e ho preso però è comunque una vaniglia abbastanza fresca non è una vaniglia molto gurmano alimentare semplicemente perché comunque era in super offerta e io avevo bisogno anche comunque di questo ma il preferito che mia mamma ha già acceso a casa ha già usato insomma è questo questa è la ricarica ma è la ricarica alla profumazione fresca brezza di capri cioè praticamente sono quelle della Lenore esistono di tutte quanti ne ho viste almeno altre due comunque c'è la Portofino e un'altra esistono comunque appunto quelli dedicati agli ammorbidenti Lenore fresca brezza di capri è il mio ammorbidente preferito della vita per cui figuratevi se non potevo non prenderlo e mia mamma l'ha già messo in funzione ed è identico quindi per me questa è la scoperta della vita perché io adoro quell'ammorbidente avere il profumo di quell'ammorbidente per casa o comunque nel reparto il bagno così camere da letto per me è il sogno perché ho il duro da morire poi vi faccio vedere questo che si chiama citri ma è semplicemente acido citri lo trovate comunque in mille altre marche io adoro da morire l'acido citrico lo sto utilizzando già da diversi mesi da quando l'ho scoperto da quando ho scoperto più che altro che l'acido citrico è un ingrediente utilizzato tantissimo anche in prodotti che costano cento volte tanto perché questo che è un chilo lo pago circa tre ore e cinquanta e dura veramente tantissimo ad esempio i decalcificanti per macchine del caffè sono praticamente acido citrico liquido quindi se voi sciogliete due cucchiai di acido citrico in un po' di acqua calda e comunque lo utilizzate come decalcificante è identico a quelli che comprate pagandoli anche dieci euro e comunque avete usato solo due cucchiai di questo ottimo per fare la pulizia alla lavatrice quindi quando faccio il ciclo di pulizia ci unisco anche questo un cucchiaino unito anche ogni tanto a il bucato favorisce comunque lo sciogliersi del calcare e comunque impedisce il formarsi del calcare stesso discorso per la lavastoviglie quindi è un elemento che in casa mia non manca più perché questo è veramente veramente fantastico io l'ho utilizzato anche in uno spruzzino disciolto in acqua calda poi comunque rimane in forma liquida quando si scioglie perché come sale più o meno è il più potente anticalcare che esista per cui lo utilizzo proprio come anticalcare per il vetro della doccia che purtroppo ahimè come casalinga da quel punto di vista io non sono molto brava perché il vetro della doccia è una roba che pulisco ma non troppo spesso quindi a volte si formano proprio del calcare un po' ostinato quindi ovunque ci sia calcare acido citrico e avete risolto in modo ecologico e sicuramente risparmiando ultimo prodotto che vi mostro che però non ho qua ma lo vedrete in sovraimpressione perché ve lo metto qua da qualche parte mi avete visto utilizzare tantissime volte ragazzi ragazzi non so se penso sia già uscito il video ma non sono sicura della mia recensione completa di questo elettrodomestico che mi avete visto utilizzare tantissime volte sto parlando del Tineco Flor S3 io ho ricevuto dall'azienda Tineco anche il Tineco Flor S5 quello l'ultimo uscito mi è stato inviato il Tineco S3 io non ho mai guadagnato nulla dall'acquisto eventuale di questi prodotti ma quando io provo qualcosa e penso che valga veramente la pena ma soprattutto che siano oggetti che possono veramente aiutarvi nella vita di tutti i giorni sapete che io non ho problemi a comunque insistere anche in questo caso vi dico che è avvenuta una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il già favoloso Tineco Flor S3 che vi pulisce lava e aspira nello stesso tempo io ho due cani quindi potete immaginarvi il tappetino di peli che c'è sul mio pavimento se sto una giornata senza passare l'aspirapolvere vi dico che quando io lo uso non passo l'aspirapolvere prima e pulisce perfettamente aveva però qualche difetto del tipo che non puliva perfettamente i bordi per esempio questo Tineco Flor S5 li pulisce ha comunque tantissimi accessori che vi permettono di utilizzarlo anche in altri modi vi lascio comunque il link della recensione completa delle video della recensione completa qualora sia già uscito ma penso di sì perché veramente io ne sono totalmente innamorata ma veramente totalmente innamorata questo è un oggetto di cui non mi libererò mai perché proprio io contate che lavo il pavimento non dico tutti i giorni ma quasi io quando l'ho usato la prima volta sono rimasta tipo scioccata perché l'acqua era comunque nera io capisco tutto però ha questo rullo che veramente pulisce molto bene il pavimento in profondità basta utilizzare comunque il detergente che viene fornito in dotazione o comunque un detergente non schiumogeno si può aggiungere anche comunque dei profumatori qualche cosa per aiutare a profumare un po' l'acqua io lo faccio e davvero veramente a me ha cambiato la vita quindi è assolutamente uno dei miei preferiti di questo mese ma direi che lo sarà anche per i prossimi dunque io ho finito qua con i miei preferiti spero comunque di avervi tenuto compagnia quantomeno con questo video sui preferiti noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi mando un bel bacione ciao ciao ciao